donne, donne che soffrono, donne che vengono prese in giro dagli uomini si, noi uomini continuiamo a prenderle in giro, ma quanto siamo cattivi noi uomini è ora di dire basta, chiederò scusa alle donne e lo farò regalando a loro un fiore bianco nome? Nicole, età? 21, hai mai sofferto per amore? tante volte, tante volte un'altra donna che ha sofferto per amore, quindi gli uomini ti hanno fregato? si, ci puoi raccontare una storia per tutte? l'ultima posso dire, l'ultima cosa è successo? una persona che usciva con me e con un'altra ragazza, no lui usciva sia con te che con un'altra ragazza? ebbene si e quando l'hai scoperto? come l'hai scoperto? l'ho scoperto dopo tre mesi perché conoscevo di vista lei oddio, e che cosa hai fatto? mi sono arrabbiata e è finita lì, è chiuso per sempre hai sofferto? e un pochino sì un altro uomo che fa soffrire un'altra donna beh, volevo chiederti scusa da parte di tutti gli uomini grazie scusa da parte di tutti gli uomini quindi gli uomini ti hanno fatto soffrire? un po' ma adesso è tutto passato adesso è tutto passato però io visto che tu hai sofferto volevo chiederti scusa da parte di tutti gli uomini grazie, molto gestiva bravo, come è successo? un uomo ti ha preso in giro in passato? ma presente presente adesso? mi sta prendendo in giro, sono consapevole però ti sta prendendo in giro e tu ne sei consapevole? beh Floriana allora io volevo chiederti scusa da parte di tutti gli uomini grazie una donna che forse ha sofferto per colpa di noi maschiacci, nome? Silvia hai mai sofferto per amore? dall'asilo dall'asilo? dall'asilo, sì 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 gli uomini ti hanno preso in giro sin dall'asilo dall'asilo quindi ormai ci ho fatto il canno scusa da parte di tutti gli uomini, scusa da parte di tutti gli uomini grazie prego ho finito i fiori e ho pochissimi soldi ma povere donne sempre prese in giro io io devo chiedere scusa andrò a comprare altri fiori, sì un'altra donna che ha sofferto per amore, nome? Marta cosa fai nella vita? volevo chiederti scusa da parte di tutti gli uomini oh grazie mille oh grazie allora li scuserò grazie nome? Andrea Andrea cosa fai nella vita? studi studi Andrea hai mai sofferto per amore? sì un uomo ti ha fatto soffrire per amore? sì ti ha preso in giro? sì ti ha ingannato e che cosa ha fatto? te lo ricordi? e lui ha partito con un altro ragazzo è partito con un'altra ragazza? no no un ragazzo con un altro ragazzo un uomo che abbandona una donna meravigliosa per un altro uomo sì beh io volevo chiederti scusa da parte di tutti gli uomini grazie se ti prego io per questo volevo chiederti scusa a nome di tutti gli uomini ok che cazzo è successo? grazie no me lo ridai? ah si uffi no mi serve me lo ridai? grazie mi ridai il fiore? no perché me lo deve dare a me me lo ridai? si certo grazie ciao cazzo si è ammosciato il fiore e ma dove lo trovo? è un trofiore per stai tipe me lo ridai? certo me lo dai? no mi serve devo fare interviste dai dammelo me lo ridai? come? il fiore posso prendermelo? no mi serve dopo no è per me ma mi serve dopo no me lo ridai? mi serve per interviste come? no mi serve per interviste? no mi serve grazie ma no un altro uomo mi serve per interviste